bentornati a tutti su mind the chart sto vedendo che in questo periodo vi state iscrivendo in molti sul canale e sui nostri social quindi è arrivato anche il momento di parlare di concetti base ma molto importante per i nuovi arrivati oggi andiamo a vedere come operare sui perpetual futures facendo trading su bitcoin ovviamente dobbiamo capire perché vogliamo utilizzare la leva finanziaria anche perché dobbiamo comunque avere delle basi per poter iniziare a operare sui futures quindi se siamo neofiti al cento per cento e non abbiamo nessun concetto secondo me questo è il miglior video per andare a capire come muovere i primi passi operare con leva finanziaria si può fare direttamente col margin trading che si opera nel mercato spot oppure sui perpetual futures in questo video andremo a vedere i perpetual futures perché secondo me se facciamo trading con leva i perpetual sono molto meglio del margin trading entriamo all'interno del video e andiamo a vedere un po come funziona il tutto io per questo video ho scelto l'exchange fimex che mind the chart sta utilizzando da mesi attivamente ricordo che loro lanceranno a fine mese il loro utility token chiamato pt abbiamo secondo me ancora circa dieci giorni perché noi stiamo partecipando all'airdrop da più mesi loro cosa fanno se voi fate attività di trading vi danno come bonus l'airdrop del token pt in ogni modo non perdo tempo ho fatto vari video di come partecipare vi lascerò tutto in descrizione quindi anche se non manca moltissimo questa è una buonissima occasione per partecipare a questo airdrop anche perché secondo me potrebbe fare buonissime percentuali inoltre mind the chart per fare trading sui futures vi dà il meno 20 per cento di sconto vita sulle trading fees e vi ricordo che su fimex avete anche 60 dollari di welcome bonus se completate vari task una volta iscritti col mio ref che vi lascio in descrizione perché solo col mio ref otterrete comunque queste promozioni questa è la schermata principale una volta che siamo su questa schermata ovviamente dobbiamo ricaricare l'account possiamo farlo attraverso un deposito cripto quindi da un exchange esterno su fimex oppure possiamo depositare attraverso carta di debito o credito abbiamo come fisico 0.8 per cento è abbastanza bassa comunque se pensiamo che andiamo a depositare con carta per fare questa operazione serve che vuoi sì il no your customer cioè la verifica di documenti quindi diciamo che per fimex se non siete molto pratici questo è il miglior modo per andare a depositare per esempio se noi vogliamo depositare facciamo euro scegliamo usdt che sarebbe una stable coin ovviamente cripto valuta che però non oscilla quindi rimane a un valore fisso facciamo buy vuole la verifica dell'identità quindi vi avevo già spiegato che senza verifica non ci fa fare nulla una volta che abbiamo ricaricato però dobbiamo andare a spostare i fondi e come facciamo se andiamo sul contract andiamo e clicchiamo usds and perpetual questa la schermata principale del nostro conto futures dobbiamo andare a fare un trasferimento andiamo a cliccare transfer e dobbiamo trasferire i fondi dallo spot account al contract account scegliamo quanto trasferire e abbiamo ricaricato quando andiamo a depositare i fondi vanno sullo spot per tradare sui futures dobbiamo fare questo trasferimento oppure direttamente anche da qui possiamo fare deposito e possiamo fare un cripto deposit quindi un deposito attraverso cripto valuta qua molto semplice se voglio depositare usdt scelgo usdt scelgo network copio l'address la sezione preleva del mio exchange inserisco questo address l'importo e ho depositato usdt molto semplice mi raccomando network deve combaciare se no perdete i fondi se non siete sicuri mandate prima 5 dollari e poi mandate l'intero importo io faccio sempre così per cifre importanti sempre fare una prova questa è la schermata principale del trading sui futures perché fare trading sui futures questo ci permette di ovviamente aumentare la nostra capienza di trading perché se io ho 10 mila dollari e voglio aumentare la mia esposizione se metto per esempio lieva 10 o 100 mila dollari di posizione e quindi posso andare a speculare so che molti di voi che ci seguono utilizzano le leve per fare trading però per i neofiti mi raccomando voglio spiegarvi un po' come funziona quando noi facciamo trading con leva non possiamo comunque fare trading con leva senza un piano preciso senza uno stop loss dobbiamo andare a vedere il rischio rendimento perché se noi entriamo in un trade e perdiamo tot e vinciamo tot dobbiamo saperlo prima se no si rischia di essere liquidati anche perché non è consigliato comprare con leva criptovalute e detenerle per lungo periodo abbiamo comunque da pagare anche un funding rates che sarebbero degli interessi che poi andremo a vedere un po' cos'è il concetto di funding rates e inoltre a questo si rischia di essere liquidati senza lo stop loss si può operare con leva su bitcoin per esempio leva 2 se si compra un bottom e detenere per un certo periodo di tempo ma sulle al coin operando con leva è chiaramente se superiamo la leva 2 e andiamo verso leva 5 10 lo stop loss è d'obbligo perché se no rischiamo di essere completamente liquidati voglio anche ricordarvi che mind the chart per fare trading vi regala il suo corso di 12 ore sui segreti dell'analisi tecnica se andiamo sul nostro mind the chart dot io vi faccio vedere il nostro terminale dove abbiamo notizie abbiamo dati di dove avrete tutti i tickers con tutte le cripto tra le winner e loser e per ogni criptovaluta se clicchiamo sopra vi dà oltre ai prezzi e grafico tutte le notizie inerenti a quella criptovaluta afficius molto importante per studiare le fondamentali per rimanere sempre sul pezzo su ogni singola cripto ho fatto per voi gratuitamente per il prossimo bull market ricordo anche abbiamo anche social media e se fate un account tutto gratis troverete air droppato sulla parte delle notifiche il corso gratuito di 12 ore che vi viene dato sul drive google drive vedete andiamo a cliccare con 12 ore di video corso tutto gratuito questo lo stiamo facendo per voi per rendervi più consapevoli e non fare cavolate come abbiamo fatto noi comunque tanti anni fa sui futures possiamo sia fare long che short quindi andare a rialzo o vendere a ribasso dipende un po dalla nostra strategia se noi per esempio vogliamo entrare long su bitcoin noi entriamo nel mercato al prezzo migliore e il nostro ordine viene pescato all'interno dell'order book per esempio scegliamo la size una volta fatto ciò andiamo a scegliere le leve qua vedete abbiamo fino a leva 100 per questa è per la leva long e sotto per la leva short per quanto riguarda le leve possiamo utilizzare la modalità cross o isolated io vi consiglio di utilizzare isolated perché se utilizziamo cross andiamo intaccare l'intero account invece isolated ogni posizione è indipendente e andiamo solo liquidare quella parte di posizione una volta fatto ciò importante scegliere lo stop loss e il take profit perché almeno sappiamo già quando uscire dal trade e quando andare a prendere profitto per esempio se io entro adesso su bitcoin a 36.000 qualcosa il take profit posso metterlo a 40.000 dollari e lo stop loss lo mettiamo per esempio se andiamo a perdere i 34.000 dollari quindi vedete ci dice quanto perdiamo quanto vinciamo se io apro questo trade perdo 7 dollari punto 8 e posso vincere 10 dollari ovviamente sempre sulla mia posizione ho messo pochi soldi non ha senso entrare se io so già che perdo 40 dollari ne vinco 10 questo è il senso dobbiamo sempre cercare di fare un rapporto 1 a 1 o comunque 1 a 2 per esempio perdiamo 10 vinciamo 20 questo è un po il succo una volta fatto ciò se facciamo open long vedete facciamo conferma abbiamo aperto il nostro ordine poi se abbiamo sbagliato facciamo close off position facciamo conferma abbiamo venduto la posizione questo è un po un esempio invece la funzione limit entriamo un prezzo per stabilito per esempio se voglio entrare su bitcoin a 32.000 metto limit price metto 32.000 entrò solo quando andrà lì metterò quanto voglio comprare possiamo scegliere per esempio la posizione una volta fatto ciò scegliamo take profit e stop loss take profit per esempio quando andiamo a 40.000 esempio stop loss quando andiamo a 28.000 quindi qua vedete il rapporto 1 2 perdiamo 16 vinciamo 33 ma già tutto per stabilito non possiamo entrare a casaccio soprattutto quando operiamo con leve superiori al 2 qua siamo sempre in una leva 10 per come esempio le leve vanno fino a 100 per una volta fatto ciò se io faccio open long la mia posizione andrà in ordini attivi quindi non è stata ancora fillata magari non la fillerà per le prossime settimane o giorni rimarrà qui verrà solo fillata quando bitcoin andrà a toccare 32 mila dollari una cosa molto importante che dobbiamo trascurare sono i funding rate quando operiamo sui futures il funding rate è un elemento molto importante che dobbiamo secondo me tenere sempre in considerazione che è il fattore che determina la forza che costringe il prezzo del contratto perpetuo a convergere con il prezzo dell'indice del suo asset sottostante questo è un po il succo del discorso il funding rate consiste in piccole somme di attività che vengono scambiate tra i trader short e i trader long che hanno posizioni nei contratti perpetual e questo ha lo scopo di mantenere i prezzi di tali contratti legati al prezzo sottostante quindi si tratta di pochi centesimi o di dollari a seconda poi della size che andiamo a far trading ovviamente più la size è grande e più andremo a pagare e secondo me monitorare il funding rate è molto importante perché ci dà importanti informazioni sul sentiment generale del mercato in cui stiamo investendo e la proporzione tra chi sta scommettendo a rialzo e quanto invece speculano sul ribasso di un asset quando viene quotato sul mercato quindi sempre occhio al funding rate ma anche su Fimex sulla sezione academy troverete tutta la spiegazione precisa poi per quanto riguarda i futures possiamo operare anche in short quindi possiamo puntare a ribasso per esempio io voglio andare short in questo momento perché penso che bitcoin va a 32.000 cosa faccio? vado su market se voglio operare direttamente entra nel momento metto la size scelgo la leva conferma take profit e stop loss quindi il take profit quando per esempio andiamo a 30.000 lo stop loss per me quando andiamo sopra i 40.000 viene invalidato il take profit è di 15 lo stop loss è di 7 e quindi questo cosa vuol dire? è un rapporto 1 a 2 vado a guadagnare 15 dollari e vado a perdere 7 qualcosa differenza rispetto all'ordine precedente è che invece di fare open long facciamo open short facciamo confirm abbiamo aperto uno short leva 10 per ovviamente possiamo farlo anche in limite quindi a un prezzo prestabilito per esempio io voglio entrare in short solo quando bitcoin va a 40.000 e farò lo stesso questo diciamo un po' il succo ovviamente se siete nofiti secondo me è meglio incominciare a operare in long e capire un po' come funziona tutto il meccanismo poi ovviamente operare anche in short in ogni modo in descrizione troverete come partecipare all'airdrop di femex del token pt manca pochissimo quindi bisogna affrettarsi se vogliamo partecipare vediamo anche il meno 20% di sconto vita sul trading fees avete anche 60 dollari di welcome bonus in ogni modo anche sotto in descrizione troverete ma in the chat.io dove vi ho spiegato come ottenere 12 ore di videocorso gratis sull'analisi tecnica e mi raccomando di seguirci anche su tutti i nostri social soprattutto sul nostro gruppo telegram perché vi diamo tutti i contenuti time sensitive con ciò vi saluto e noi ci vediamo al prossimo cripto appuntamento